Remember the dream? E sto usando quello di grosso perchè voglio uscire a testa alta perchè nello scorso video non avevo fatto un bello score Comunque adesso yeah Andiamo qua che c'è Oi 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 Si suca Vuoi prendermi? Vuoi prendermi? Tutti vogliono prendermi E si fa così Dentro 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 No porca vacca Bastardo infame Non so ne molti siamo in 9 Io so nella squadra 5 quindi troverò pochi nemici Andiamo già a vincere Attenzione ho mutato dei giocatori Ma dai Guarda codardi i codardi scappano Si si Sono il pro gaming Ma dai porca vacca non mi cura nessuno Si Si abbiamo due compagnie fk però va bene Ma dai E' inutile quando registro Succa dai cosa vuoi fare dai dai lascia stare Succa Vabbè mi è preso Ma dai Cazzo Adesso io lo scrivo perchè mi sto davvero raggando Dai cazzo Dei nab No sarà mica una spia questa No Eh perfetto si sono chiusi anche il cancello Scusate se mi sto all'indietro ma quella spia Ma ecco sarà questa la spia No Dai E' il momento E' il momento Si entra Si Si Ho ho Oh my god Questa è la spia Vanno a vincere Hell yeah Eh ho vinto anche una partita Sono secondo della squadra vincitrice Si Si LOL Mi sono fatto le kill così perchè per fortuna quelle li valgono alla fine Quindi uno si fa le kill così Andiamo a prenderli da sopra perchè di sicuro arriveranno quei Demoman Io avevo lo scudo che dava la carica ma l'ho perso Mi è caduto per te lo non ho più ritrovato Tu morirai Tu morirai Muori Morirai Faccio più schifo della volta scorsa ma è merda sono già quattro minuti Cribbio no, ecco stanno anche entrambi Perfetto Ma per forza ho fatto poche fps Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui Tu cosa fai qua? sono a spia no brava ragazzi ma dai cazzo mi sa che perdiamo oh ti è sei morto guarda che adesso entra zucca oh si ho un cazzo perché comunque ne stanno buscando no le sto buscando non riesco a fare una kill è incredibile no ma che cazzo l'unica volta che ti scappai nelle di spalle non ci credo ragazzi io quando registro faccio degli score che a dire nalbi è un complimento forse è un personaggio forse dovrei provare con con l'arco dai venite venite però la sarà mica una spia no 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 non è una spia ma se la prendo io ti è stronz mi prendi? succa? ti è rido dai bastardo scappi i codardi scappano e si rifugiano allo sponico i codardi le pecore i cocodrilli si rifugiano allo sponico i cocodrilli non stard sono andato qui sulla punta ma vaffan cumuru ma che cazzo di arma ha? che minu oh cazzo sono 7 minuti no non voglio fare il male qui però devo ci vedere nel prossimo episodio mettete mi piace commentate iscrivetevi ciao ciao